buonasera tutti quanti alle 6.06 minuti venerdì 15 luglio 2022 ci sono 50 gradi 50 gradi al sole si cuoce di caldo si cuoce di caldo è già la seconda volta che sono 50 gradi al sole ci va signora scusi prego signora prego prego allora scusate 51 51 gradi 51 gradi 51 gradi è la storia è la storia ma è successo 51 gradi al sole la prima volta che vedo 51 gradi 50 sono arrivato due settimane fa ma c'è 50 51 mai visti in vita mia 51 gradi si bolle oggi si bolle viva l'estate e anche viva la figa ci sentiamo stasera che stasera sono 30 gradi stanotte alle 2 mi auguro buon pomeriggio e una buona sera a tutti quanti ciao a tutti